Io l'ho visto, ci ho parlato, è vigile, è normale, grande capacità di reazione e devo dire che è un ragazzo davvero d'oro, anche nel modo con cui si pone dopo una vicenda come questa. E' nelle migliori mani e io voglio ringraziare i medici e il personale sanitario qui di Carenci, come della Fiorentina, perché in questi casi sentiamo che a Firenze abbiamo un tesoro, un'eccellenza nella sanità che si è prestata immediatamente con tutto quello che la situazione richiedeva. Poi per il resto, da un punto di vista della diagnosi e delle caratteristiche, leggerete attraverso i voletini medici. Presidente, cosa ne ha detto? Sinceramente non ho l'opportunità di poter verificare questo. Sono stato più a trasmettere il sentimento del cuore grande di Firenze, di tutti i tifosi, di tutti coloro che ieri sera hanno inondato di affetto la sua persona.